Si discute sulla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Chieti, ad essere contestato da più fazioni politiche il project financing, del costo di più di 3 miliardi di euro. Pochi giorni fa, ad accedere alle carte, è stato il presidente della commissione di vigilanza, Mauro Febbo, che ha contestato l'utilizzo di fondi per la realizzazione di una nuova ala a Chieti, quando sarebbe stato più opportuno utilizzare strutture già esistenti, come il nosocomio San Camillo di Chieti, e adoperare invece quei soldi per lavori di adeguamento ad altri due presidio ospedalieri, Lanciano e Vasto. A smentire le accuse arriva proprio l'assessore regionale alla sanità. Il presidente della commissione di vigilanza dice una serie di inesattezze, per non dire sciocchezze, perché intanto lui era assessore regionale quando, senza alcuna commissione di vigilanza, senza alcun accesso agli atti, senza alcuna trasparenza, pervenne una proposta di project nell'aprile del 2014, a due settimane dal voto, ovvero poco prima del voto. E in secondo luogo i nostri incontri, le nostre riunioni sono talmente trasparenti da essere ogni volta pubblicate sul sito del presidente, con verbali adeguati per quanto riguarda appunto quegli incontri e quelle riunioni. L'altra sciocchezza è questo fantomatico costo di un miliardo, tre miliardi. Se i servizi costano, facciamo un esempio, 40 milioni di euro all'anno per il presidio di Chieti, moltiplicati 30 anni viene un miliardo e 200 milioni. Ma non è che in assenza del project i servizi non si fanno, cioè il riscaldamento non c'è, la luce non si paga, il lavanoolo non funziona, le sterilizzazioni nemmeno. Quindi i costi dei servizi ci sono comunque a prescindere dal project. Terza sciocchezza, l'articolo 20 riguarda i 5 nuovi ospedali, Giulianova, Vezzano, Lanciano, Sulmona, Vasto, e un intervento su penne. Altra storia, il project che non pesca in questi fondi, quindi le due cose sono totalmente distinte, non si accavallano e le risorse non si sovrappongono. Quindi sono tre sciocchezze fatte soltanto e dette soltanto per fare un po' di fuochi d'artificio e di demagogia.